Oggi proverò con voi altro cibo strano! Raga, io partirei con questa cosa che non ho ben definito che cosa sia esattamente C'è scritto spray candy Proviamo, raga, ho paura Eh, non va Eh, eh Ma raga, è sprissiva Ora proviamo qui a questa bevanda Ciupa ciupa, cherry, bubble, gum, flower Boh, mille cose strane Raga, vi giuro che l'odore... Oddio, è rosa Raga, è bellissima Raga Bevete un sorso di questo e vomitate per una settimana Ora comunque proveremo questo occhio Raga, è viscido Oddio, è appiccicato No, 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 amore, no Ok Raga, è viscidissimo Cioè, oddio Mi metto le ciglia Mmm È fatto casino comunque Cioè, è buonissimo, ve lo giuro Io e il mio appizzicume Sulle dita vi salutiamo Vi aspettiamo su IG Che provo questa cicca Molto strana Molto strana